Continua la festa d'Amadeus che consegna un'altra ricca vincita alla nuova coppia di concorrenti. Ascolti televisivi al top per l'eredità. Come sono andati gli ascolti tv di ieri 26 dicembre 2022. Santo Stefano in compagnia di film e di Alfonso Signorini. In prima serata. Nelle altre fasce orarie si segnala il successo dell'eredità nel preserale e dei soliti ignoti il ritorno nell'access. Da Flavio Insinna non è passata inosservata l'assenza del professore Andrea Cerelli. Mentre da Amadeus si è verificata un'altra ghiotta vincita. Ascolti tv ieri 26 dicembre Prime Time. GF Vipe e La Bella e la Bestia. In prima serata Rai 1 ha proposto ai suoi due. 38 milioni di seguaci il film. La Bella e la Bestia. Guadagnandosi uno share del 14. 3%. Su Canale 5 non si è certamente fermato Alfonso Signorini con il suo grande fratello Vip. Capace di raccogliere davanti alla televisione 2. 42 milioni di spettatori e uno share del 19,1%. Rai 2 ha mandato in onda, una famiglia sotto l'albero, riuscendo a svagare la mente di uno. 37 milioni di spettatori. Share 7,6%. Rai 3. Con, Report. Ha tenuto compagnia a uno. 43 milioni di spettatori. Aggiudicandosi uno share medio dell'8,3%. Su rete 4 minuti il ragazzo di campagna. Ha avvicinato agli schermi 1. 0,3 milioni di utenti. Share 5,9%. Mentre Italia 1 è stato la scelta di 977.000 individui che hanno guardato. Trappola di cristallo. Share 6%. Dati audite il 26 dicembre 2022. Ecco quanto hanno vinto i concorrenti dei soliti ignoti il ritorno. È sempre festa da Amadeus, che, con i soliti ignoti il ritorno, ha offerto intrattenimento a tre. 92 milioni di appassionati. Share 20,4%. I quali hanno assistito al trionfo della nuova coppia di concorrenti. Capace di vincere oltre 34.000 euro in gettoni d'oro. All'eredità, invece, la vittoria continua a farsi desiderare. Questa volta è stato eletto. Campione. Pasquale il quale. Tra. Livello. Mascagni. Tasca. Coperta. Bucato. Ha optato per. Passaggio. Anziché per. Terrazza. Perdendo la bellezza di 95.000 euro in gettoni d'oro. Si è notata l'assenza del professore Andrea. Quindi Samira ha dovuto rimpiazzarlo. A seguire questa puntata sono stati 3,77 milioni di persone e uno share del 22,6%. A seguire Grazie a tutti